Ciao a tutti! Oggi prepareremo i tartufini di pandoro e pistacchi. Il tempo di preparazione della ricerca è di 15 minuti più il tempo di riposo interior. Gli ingredienti sono pandoro tagliata pezzetti, mascarpone, crema di pistacchi e farina di pistacchi. Diamo il via alla ricetta. Mettendo all'interno del boccale il pandoro e lo facciamo dritare per 10 secondi a velocità 8. Aggiungere la farina di pistacchi, il mascarpone e la crema di pistacchi ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 5. E' pronto a formare le palline. e passarle nella farina di pistacchi. e posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno. Tartufini di pandoro e pistacchi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!